Il consueto punto su come si viaggia in autostrada in Liguria, ci colleghiamo e diamo il buongiorno ad Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sì Simone, buongiorno. Giovedì 27 aprile con circolazione viaria che sta aumentando progressivamente per gli spostamenti del mattino dovuti all'inizio delle attività lavorative. Ma intanto monitoriamo le immagini che ci giungono in diretta dal ponte San Giorgio che evidenzia, vedete, rallentamenti proprio dovuti all'inizio delle attività lavorative. Beh, inizio nelle segnalarvi che abbiamo una criticità, ovvero delle code per 3 km sulla 26, la Genova-Gravelona-Tocce, dovuta anche a un incidente tra Ovada e Masone in direzione a Genova-Voltri. Anche code per lo stesso motivo anche al confine sulla 10, Genova-Ventimiglia, tra le confine di Stato e la barriera di Ventimiglia verso Genova. Ad ogni modo, nel piano di ammodernamento e manutenzione di autostrade per l'Italia c'è una stima dei tempi di percorrenza molto superiore alla norma da Bollino-Rosso che vediamo con l'ausilio della grafica questa mattina in direzione di Gravelona-Tocce che si porterà fino alle 10, nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Comunque, per ulteriori informazioni potete sempre consultare il sito www.autostrade.it nella sezione dedicata alla viabilità della Liguria. Mi fermo qui Simone, buona giornata a te e ai nostri telespettatori. Arrivederci.